Sinistra 4, 50, mi senti bene Eato? Sì sì Sinistra 4, 2 tempi In destra 2 In sinistra 2, chiude 1 Sinistra 2, chiude 1 In piega destra 50 Destra-sinistra, 1 stringe Per sinistra 3, 2 tempi 50 Ritarda, tornante destro 50 Destra 3, 50 Destra-sinistra 3, lunga In destra 2 Vai dritto, vai dritto, vai dritto In sinistra 1 Per destra 1 Per Ritarda, tornante sinistro Vai largo al prossimo qui Per tornante destro In piega sinistra In destra 2 Piega sinistra in destra 2 Subito tornante sinistro 50 Shikan, stai a destra Per sinistra 1 Per sinistra 1 Tornante sinistro Per sinistra-destra 2 Sinistra-destra 2 Per piega sinistra 50 Destra 1 Per piega destra-sinistra Sudosso, scusami Per destra 2 Shikan, stai a sinistra Sinistra 4, 50 Sinistra 4, 2 tempi In destra 2 In destra 2 In sinistra 2 Chiude 1 Chiude 1 In piega destra Vai dritto, vai dritto 50 Destra-sinistra 1 Stretta per sinistra 3 Due tempi 50 Ritarda, tornante destro 50 Destra 3 50 Destra-sinistra 3 Lunga In destra 2 In sinistra 1 Vai dritto, vai dritto, vai dritto In sinistra 1 Per destra 1 Per destra 1 In ritarda, tornante sinistro Vai largo qua Per tornante destro In piega sinistra In destra 2 Subito tornante sinistro Per destra 1 Per destra 2 50 Tornante sinistro Per sinistra destra 2 Per piega sinistra 50 50 Destra 1 Per piega destra-sinistra Vai sudosso Destra 2 50 50 Chican sinistra Sinistra 4 Sinistra 4 Sinistra 4 2 tempi In destra In destra 2 In sinistra 2 Chiude 1 In piega destra 50 Destra-sinistra 1 Stretta Per sinistra 3 2 2 tempi 50 Ritarda, tornante destro 50 Destra 3 50 Destra 3 Destra 3 Destra-sinistra 3 Lunga In destra 2 In sinistra 1 Qui vai dritto E poi fa subito la sinistra 1 Per destra 1 Per Stai largo eh Per tornante sinistra Per tornante destro In sinistra In piega sinistra In destra 2 Subito tornante sinistra 50 Chicanza in destra Per sinistra 1 50 Per sinistra 1 50 Tornante sinistra Per sinistra Per sinistra Destra 2 Per piega sinistra 50 Destra 1 Piega destra-sinistra Vai sudosso Destra 2 50 Chicanza sinistra 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 4 50 Sinistra 4 2 tempi Questo è l'ultimo? Sì In destra 2 In sinistra 2 Chiude 1 In piega destra 50 Destra-sinistra 1 Stretta Per sinistra Per sinistra 3 2 tempi 50 Ritardo tornante destro 50 50 Destra 3 50 Destra-sinistra 3 Lunga In In Vai dritto E fai subito la sinistra 1 Vai Per destra 1 Stai là Pupi eh Per tornante destro Per tornante sinistra Per tornante sinistra Per tornante destro Per tornante destro In piega sinistra In Piega sinistra Destra 2 Subito tornante sinistro 50 Scicanza destra In Sinistra Destra 1 50 Tornante sinistro Per Sinistra destra 2 Per piega sinistra 50 Destra 1 Piega destra sinistra Ok Vai suddosso Ok Al destra 2 Dobbiamo uscire eh Facciamo? Sì sì Vai 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 a bomba eh Perfetto Va beh Sì sì